ciao ragazzi oggi ci troviamo qui sull'opel agila per andare a sostituire la batteria che purtroppo ci ha lasciato e niente quindi niente andiamo adesso a sostituirla faccio vedere come si fa per chi magari non l'ha mai fatto allora ci servono una chiave del 13 come questa fissa e una bussola come questa del 13 per andare a rimuovere questo bullone qui che ha un fermo faccio vedere che tiene la nostra batteria allora iniziamo ad allentare i dadi uno qua e l'altro è questo partiamo sempre dal negativo e andiamo allontanare questo posso fare un maggiore A presto. Ok, abbiamo allontanato il negativo. Un po' scomodo qui mettere la chiave, però si rinusce piano piano. E invece, questa è la prima cosa. Ok, ci spostiamo sul positivo. Qui ho dovuto mettere un cacciavite perché se no mi girava a vuoto. Il cazzo di dubbi li abbiamo fatti veramente estratti. Ok, sta allentando. Andiamo a togliere il nostro positivo. Ok, ci spostiamo sul fermo da 13. E andiamo a sviluppare. Conviene avere una bussola con una prolunga come c'ho io. Perché se no... Ed eccolo qua. Questa è la sua vite. E questo è il fermo che tiene la batteria. Niente, adesso teoricamente dovrebbe essere tutto libero. Ci dovrebbe essere niente che ci costruisce. E' così. Ecco qua. E qui abbiamo la nostra batteria. Non so quanti anni ha questa batteria, però sicuramente noi abbiamo la macchina da 4 anni. Nera già su. Provate a ricaricarla e a fare la manutenzione. Che questa levità ha più e tutto. E' durata... Una volta ci ha salvato, ma adesso non tiene più. Probabilmente si è rovinato qualche elettro dall'interno. E niente. Adesso andiamo a sostituirla. Ok. Prima di rimontare la batteria, ho dato una pulita grossolana qui con un po' di sgrassatore e uno straccio. Evitate di rimettere la batteria nuova senza pulire. Perché magari ci potrebbe essere anche un po' di acido o altro. E niente. Piaviamo la nuova batteria. Un po' recuperato. Il portellino qui del più dalla vecchia batteria. E niente. Prendiamo semplicemente. E andiamo a rimettere nel suo alloggiamento. In questo caso. Questa è una 50A. E questa è una 45A. Quindi la metto un po' più grossa. Che è una batteria nuova, diciamo, ma recuperata. Perché a mio suocero che ha cambiato la macchina e quindi non andava bene. Non me la sono presa io. Si è stata sotto carica tutta notte. E niente. Adesso andiamo a rimettere questi qui. A ristringere le viti. Più. Il meno. E poi andiamo a rimettere il suo gancio. Che è qua. Ok. Allora. Abbiamo riagganciato il più. Pringendo la vite. Il meno. Abbiamo rimasto a posto il suo gancio. La batteria è ben salda. Come vedete. E adesso niente. Facciamo la prova di accensione. Vediamo se è tutto a posto. Ok ragazzi. Abbiamo acceso la macchina. Tutto ok. Come vedete. Naturalmente avendo cambiato la batteria. È tutto a zero. Però tutto a posto. Abbiamo. Si è acceso al primo colpo. Quindi la batteria è sana. Bene ragazzi. Spero che a tutti i possessori di Opel Agila. Possa essere di aiuto a qualcuno. Un bel like ragazzi. Iscrivetevi al canale. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. E alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.